buongiorno e benvenuti su the river lab anche se siamo ad agosto volevo comunque fare un piccolo video per per non saltare diciamo nemmeno una settimana e spero che questo video che farò sia abbastanza breve che la riparazione sia quello che penso c'è questo oscilloscopio qui dell'una homo oscilloscopio vecchio che praticamente non regola assolutamente più il fuoco ora apriremo insieme l'oscilloscopio e guarderemo se si può in maniera veloce e usando anche lo schema visto che lo abbiamo andare a circoscrivere il guasto senza dover misurare troppo e senza ammattire troppo apro l'oscilloscopio e sono da voi ecco l'oscilloscopio è aperto e possiamo vedere intanto dalla parte superiore dell'oscilloscopio un paio di cose sul sull'oscilloscopio stesso ora qui in questo in questo questa parte qui ci sono tutti diciamo e c'è il commutatore che praticamente è la base dei tempi questa parte qui da qui in poi è la parte appunto dell'orizzontale della base dei tempi qui abbiamo vediamo se lo sposto un pochino la parte di alimentatore questi qui diciamo sono la sezione che fanno la bassa tensione cioè 24 volte che poi di solito viene ridotta a 18 tramite questi stabilizzatori questo è lo stabilizzatore che alimenta poi la parte dei 5 volte e di qua in poi c'è la parte che va alimentare diciamo l'alta tensione questi qui sono vari condensatori e vari o di che fanno il moltiplicatore di focale serviranno serviranno per il tubo catodico per l'alimentazione del tubo catodico poi se lo spostiamo un attimino e lo giriamo da questa parte qui abbiamo la parte del verticale a questo punto qui spero che si veda abbastanza bene mi sembra che ci sia un pochino di ombre però spero che si veda abbastanza bene qui è la parte del verticale questi sono gli ingressi qua ci sono non si vedono ma praticamente sono le boccole di ingresso i bnc di ingresso e un attimino si dovrebbe vedere un pochino meglio e qui dicevo è tutta la parte del verticale mentre la parte che gestisce questa invece è la parte che fa sia l'intensità che la regolazione del fuoco questa qui questo qui è il potenziometro su questi tre reofori praticamente il potenziometro del fuoco ora noi dobbiamo andare a cercare in questa zona qui perché quando non mette a fuoco praticamente anche se fosse un televisore quando non mette a fuoco bisogna ricercare nella parte ovviamente del fuoco di solito per esperienza sono resistenze che cambiano di valore o potrebbe essere il potenziometro stesso o nel peggiore dei casi potrebbe essere anche il cinescopio andato ma sono casi veramente rari sicché ora vi faccio vedere un attimino lo schema dove penso ad andare a cercare con il tester e poi si prende un paio di misure e si guarda quello che succede allora spero che si veda bene perché lo schema è vecchio e sicché non è che si vede tanto bene parecchio un giallito allora vediamo un attimino questo è il cinescopio e qui possiamo vedere le varie regolazioni per esempio questo qui ruota la traccia dell'oscilloscopio questo fa l'astigmatismo e poi abbiamo l'intensità è questo potenziometro qui e qua abbiamo la regolazione del fuoco praticamente che va a questa griglia qui allora la regolazione del fuoco è composta semplicemente da queste due resistenze e il potenziometro del fuoco la prima cosa che andrei a fare non vorrei dire che vado quasi a colpo sicuro ma per esperienza è che una a misurare queste due resistenze che sono ai capi del potenziometro perché per esperienza ora ve la avvicino un attimino non so se poi si vedrà lo stesso è un attimino solo se no a proposito di fuoco va fuori fuoco allora per esperienza diretta succede che queste resistenze siccome sono di valore alto questa è 15 mega ohm e questa qui 6,8 mega ohm spesso variano di valore o addirittura si interrompono queste resistenze qui ovviamente per me è ovvio magari per per chi non lo sa un po' meno sicché dicevo queste resistenze qui devono essere del tipo per alta tensione dopo vi faccio vedere cosa vuol dire attrezzo il multimetro e andiamo a prendere un paio di misure a misurare queste due resistenze vediamo se hanno cambiato di valore o come o come sono diciamo allora noi andiamo a misurare in questo momento qui r24 che dovrebbe essere da 15 mega ohm che ai capi del potenziometro come all'estremo del potenziometro tra l'estremo del potenziometro della massa come si è visto sullo schema allora r24 è qua tra qui e qui spero di non tappare la luce allora r24 dovrebbe essere 15 mega ohm però come vediamo è 24 mega ohm sì che questa si è variata di valore ora andiamo però se è variata di valore però onestamente una regolazione così inesistenza e da messa a fuoco mi dà diciamo qualche dubbio perché magari metteva a fuoco in una maniera diversa o comunque cercava di regolare la messa a fuoco in questo caso qui come abbiamo visto la messa a fuoco non si muove sì che andiamo a vedere ora anche la r22 che dovrebbe s6 virgola 8 mega ohm e la r22 qui in questo punto qui scusate andiamo di là e mi dà praticamente come sospettavo interrotta mentre l'altra resistenza da 15 mega ohm se noi ne andiamo a misurare abbiamo visto che è 24 mega ohm ora una cosa importante se io vado a misurare una resistenza in circuito posso trovarla magari se la resistenza fosse anche buona e c'è qualcosa che è falsa la misura la posso trovare di valore più basso tipo questa qui da 15 mega ohm la potevo trovare da 10 perché magari qualcosa in circuito ci va a mettersi in parallelo il fatto che sia comunque invece che 15 26 mega ohm ovviamente anche se è in circuito non è possibile che nulla che qualcosa li dia noia sicché sicuramente ha variato di valore ora le smonto un attimino e le controllo anche se il controllo è già stato fatto e magari le cambio allora una resistenza l'ho già risaldata l'altra la saldo insieme con voi e in questo oscilloscopio ci si lavora veramente male perché sembra che sia fatto per non essere riparato nonostante che è vecchio questa era infilata dietro a tutto sicché non vi ho fatto vedere quando l'ho rimontata cioè quando l'ho levata e rimontata perché bisogna mettere l'oscilloscopio di lato per lavorarci comunque ora è risaldata ora prima di provarlo insieme vi faccio vedere la differenza tra resistenze normali e quelle per alta tensione allora ecco qua di nuovo spero che si vedano bene allora questa si riconosce bene è una resistenza di alta tensione questa qui veniva usata sul fuoco dei televisori in particolare questa qui è una resistenza da 10 mega ohm è grossa e si riconosce facilmente che è una resistenza per il fuoco per come è fatta mentre le resistenze fatte un attimino diverse vediamo un po allora questa qui è una resistenza normale e non so se si vede ci sono le bande e qui finisce con la tolleranza che è oro in questo punto qui mentre le resistenze di fuoco per il fuoco per alta tensione diciamo non tanto per il fuoco si riconoscono perché al posto della resist della scusate al posto della banda dorata o argentata insomma della banda della tolleranza hanno una banda o gialla o grigia di solito gialla questa banda qui indica che è una resistenza adatta per per tensioni più alte per alte tensioni perché vuol dire che la resistenza è fatta senza particelle metalliche esterne che potrebbero creare l'arco ovviamente quando si va a lavorare su 6 7 mila 10 mila volte e se la dovete cambiare e trovate una resistenza che è la banda gialla non la cambiate con una resistenza normale perché ci riguole uguale allora proviamo se ora l'oscilloscopio mette a fuoco allora ecco la traccia dell'oscilloscopio come vedete è molto più piccola di prima e regolando il fuoco si arriva a mettere a fuoco vedete che la traccia diventa praticamente molto fine poi da questa parte si riallarga però ora fa la regolazione come dovrebbe essere essi che ecco fatto che così mette a fuoco e guasto diciamo è stato risolto lavorando con lo schema elettrico e ragionandoci un pochino rimonto l'oscilloscopio lo proviamo assieme e poi vi farò i saluti ecco qua l'oscilloscopio questo oscilloscopio se non mi sbaglio a vedere dalla matricola del 1981 tenuto però effettivamente come nuovo chi l'ha chi me l'ha portato è un ex riparatore tv che praticamente l'ha tenuto come il nuovo a parte il guasto che c'era l'oscilloscopio funziona qui ci abbiamo messo ci ho messo una forma d'onda sinosideale qui abbiamo il guadagno in verticale in maniera che aumenta la sensibilità che aumenta e qui ritorna normale poi abbiamo anche la maggiorazione per 5 in orizzontale in maniera che si può vedere delle frequenze diciamo vedendo una forma d'onda che è al limite della banda si può maggiorare un attimino e in quella maniera si si vede meglio non che aumenti la banda passante però si vede meglio perché mettiamo che noi siamo arrivati a fondo scala con la banda passante non è questo il caso ma insomma possiamo a fondo scala e vediamo una forma d'onda così che si vede male facendo premendo questo tasto riusciamo a leggerla meglio funziona anche l'altro canale bisogna questo qui c'è un'onda quadra su altro canale se si premono insieme a questi tasti si vedono tutte e due diciamo le forme d'onda comunque l'oscilloscopio ripeto è tenuto sembra veramente nuovo non c'è un granello di polvere e sono contento insomma da avergli risolto questo problema qui e mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi chi non l'avesse fatto al canale così il canale cresce e mettete un mi piace ovviamente se vi è piaciuto il video se non vi è piaciuto non mettete non mi piace che è brutto scherzo niente anche questo video del 22 di agosto l'ho fatto non vi ho lasciato nemmeno una settimana senza un video e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti